e salve simmers e benvenuti nel quiz di the sims 4 giusto o sbagliato di cui vi ho spiegato le regole in un video precedente siete pronti per la sfida ora vi farò delle domande e nella chat premier di fianco al video dovrete scrivermi se quello che dico è giusto o sbagliato calcolerò il vostro punteggio e nei commenti sotto il video decreterò il vincitore che avrà un piccolo premio ma bando alle ciance iniziamo il quiz domanda 1 in the sims 4 se buttiamo i rifiuti giardino crescerà la pianta dei rifiuti giusto o sbagliato pensate ragazzi pensate 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 perché adesso passiamo alla 2 in the sims 4 c'è uno scenario segreto nascosto in un albero magico giusto o sbagliato pensate 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 e scrivete che adesso passiamo alla domanda 3 in the sims 4 non si può fare fichi fichi nel razzo spaziale giusto o sbagliato pensate 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 e scrivete naturalmente scrivete se è giusto o sbagliato domanda 4 tra umano e alieno può nascere un ibrido giusto o sbagliato scrivete 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 se è giusto o sbagliato e passiamo alla domanda 5 in the sims 4 le sim femmine non possono mettere incinta gli altri sim giusto o sbagliato scrivete 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 perché passiamo alla 6 sì lo so avete poco tempo per scrivere ma dovete essere veloci domanda 6 solo gli scienziati possono andare nel mondo alieno giusto o sbagliato scrivete 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 si passa alla 7 i sim vampiri possono tornare umani giusto o sbagliato scrivete scrivete perché passiamo alla domanda 8 i sim possono cambiare tempo atmosferico è giusto o sbagliato e questa ragazzi era l'ultima domanda ora passiamo alle risposte quante ne avrete azzeccate sarete stati bravi vediamo vediamo se ci sarà un vincitore risposta alla domanda 1 se in the sims 4 buttiamo i rifiuti in giardino crescerà la pianta dei rifiuti sì giusto crescerà se avete risposto giusto avete fatto bene un punto per voi domanda 2 in the sims 4 c'è uno scenario segreto in un albero magico sì giusto se avete risposto giusto avete fatto bene domanda 3 in the sims 4 ho detto che non si può fare fichi fichi nel razzo spaziale era giusto o sbagliato era sbagliato in the sims 4 si può fare fichi fichi nel razzo spaziale altro che domanda 4 tra umano e alieno non può nascere un ibrido sbagliato tra umano e alieno può nascere e come un ibrido non deve essere per forza solo umano o solo alieno domanda 5 in the sims 4 le sim femmine non possono mettere incinta gli altri sim sbagliato lo possono fare se avete risposto giusto avete sbagliato appunto perché la risposta giusta è sbagliato le sim femmine lo possono fare se attivate un'impostazione che è un po' nascosta nel CAS però c'è domanda 6 solo gli scienziati possono andare nel mondo alieno giusto o sbagliato sbagliato si può andare nel mondo alieno anche con razzo spaziale domanda 7 i sim vampiri possono tornare umani giusto o sbagliato giusto i sim vampiri per fortuna possono tornare umani con la giusta pozione risposta alla domanda 8 e ultima domanda i sim possono cambiare tempo atmosferico la risposta è sì giusto possono cambiare tempo atmosferico perché in the sims 4 stagioni esiste una macchina del tempo che permette di farlo quindi se avete risposto giusto avete fatto bene e ora ragazzi il quiz è finito mi dovrete però dare il tempo di contare le vostre risposte ovviamente dovete aver dato solo una risposta per ogni domanda non vale se qualcuno ha scritto sia giusto che sbagliato naturalmente quelle non le conterò varranno solo le risposte date in chat perché io potrò contare solo quelle invece chi non ha potuto partecipare al quiz perché magari non era connesso la chat premier mi scriva nei commenti intanto se il quiz gli è piaciuto che punteggio ha fatto perché comunque è interessante e soprattutto se volete un altro quiz quindi scrivetemelo nei commenti questo e niente ragazzi io vi rimando ai prossimi video vi mando un abbraccio grande fatemi sapere se vi è piaciuto e un bacio ciao